Eccoci ragazzi dopo un'ora e mezza di attesa, non di Melania, solo perché una ragazza avvisata due giorni fa non è riuscita a ricordarsi che sabato aveva le interviste, ok? Cioè rendiamoci conto di come ha emesso certa gente. Dopo questa parentesi iniziamo con Melania. Ciao. Ciao Melania, benvenuta tra di noi e buon anno. Grazie anche a voi. Parliamo di un topic che sicuramente può essere di interesse comune, ossia se esistono veramente i periodi no per le donne, cioè mi spiego meglio, c'è un interesse magari da parte di un ragazzo verso una ragazza, questa dice che è in un periodo no e quindi non si va da nessuna parte, secondo te è una scusa per declinare tra virgolette le attenzioni o può essere veramente che ha un periodo no e quindi effettivamente non è nella condizione giusta per poter iniziare questa conoscenza o frequentazione? Secondo me dipende. Nel senso che io per esempio parlo sempre per esperienza mia personale, io ho avuto un periodo un po' particolare, un po' difficile della mia vita e quello per me era veramente un momento no, però ad essere sinceri al 100%, io credo che anche se una persona stia vivendo un momento no e arrivasse comunque una persona che è veramente interessata a conoscerti, che è carino nei modi, nei gesti eccetera, io penso che nessuno di noi lo allontanerebbe o lo terrebbe lontano con la scusa o un periodo no. Ci possono essere dei periodi no, però secondo me anzi potrebbe essere una cosa positiva da aggiungere eventualmente come cosa bella al tuo periodo no. Quindi secondo me è una ragazza che diciamo trova tra virgolette questo appiglio per declinare attenzioni, inviti eccetera, nel 99% dei casi, perché ripeto anche io ho avuto un periodo molto particolare della mia vita per cui quasi sicuramente non avevo proprio la testa in quel momento, però nel 99% dei casi è una scusa secondo me. sai che io invece sono sostenitore dell'idea che debbano sussistere due condizioni quando fai una conoscenza che deve andare in una reazione di nuovo termine, deve essere la persona giusta nel momento giusto, perché se trovi la persona giusta nel momento sbagliato, può essere anche nel momento sbagliato di lui, non riesci a finalizzare un gran che, perché devi essere proprio nella condizione di poter dare la tua attenzione. Quello sicuramente. Ok? A me è successo, quindi ecco ho sempre capito che ci deve essere questo doppio incastro, persona giusta, momento giusto. Se qualcuna di questi due componenti viene a mancare, non si riesce a finalizzare. Poi è chiaro che nel mezzo di queste situazioni sicuramente ci saranno tante sfumature di grigio dove sono praticamente delle balle cosmiche. Esatto. Sta alla singola persona, al singolo uomo, capire se effettivamente è una scusa o meno. Potrei dirti che se la ragazza in un qualche modo cessa le comunicazioni e in un qualche modo non ti dà una sorta di appuntamento per il dopo, ok? Allora è una scusa, perché in un qualche modo vuole tagliare. Se invece lei ti dice guarda, adesso in questo periodo qua non riesco. Però ci teniamoci in contatto che quando si è chiuso tutto magari usciamo. Capito? Piuttosto quello. Ecco io sono d'accordo con te, nel senso che sì, anche secondo me è un po' così. Però, come dici tu, se una persona, cioè se io mi rendo conto, io sono in un periodo no, è ok, e mi rendo conto di conoscere, incontrare un ragazzo che comunque è un bel ragazzo, un bravo ragazzo che mi dimostra di volermi bene, di tenerci alla mia conoscenza, io piuttosto di dire no, guarda, scusami, sono in un momento no, non voglio saperne. Ti dico, guarda, purtroppo mi prendi in un momento molto particolare, molto difficile della mia vita. Questo però non vuol dire che io non sia, tra virgolette, interessata a conoscerti. Puoi portare un pochettino di pazienza, cioè puoi essere un attimino, insomma, accondiscendente con le mie problematiche, la situazione che, insomma, ho in questo momento, ecco, allora sì, ma una ragazza che ha il momento no per antonomasia e lo sfrutta per non conoscere, cioè è come se io, non so, fossi nel mio momento no, mi capitasse un gratte vinci da 100.000 euro, una vincita da 100.000 euro, però dicessi no, 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 però io sono nel momento no, quindi non li prendo. Cioè, capito, nel senso, se ti capita qualcosa di bello, secondo me non te lo lasci scappare, anche se sei in un momento no. Può essere proprio magari quella conoscenza che va a rivoltare il momento no. Esatto, capito, io la prenderei più così. Interessante. E magari hai mai sentito cosa ne pensi le tue amiche a riguardo, ossia che hanno dato come scusa e gli ho detto che sono in un momento no. Sì, ma cioè scuse, guarda, come scusa penso che almeno una volta nella vita l'abbiamo utilizzata tutti. Eh sì, guarda, sei un bel ragazzo, sei anche interessante, però in questo momento non ha la testa. Non ha la testa. Dov'è questa testa? Sotto testo, non sono abbastanza interessata, oppure non mi piace abbastanza. Esatto. Ok, per ora diciamo che sei stata brava. Grazie. Ciao a tutti.